Un anno fa, gli uomini di un commando speciale vennero condannati ingiustamente, evasi da un carcere di massima sicurezza, sono tuttora ricercati e sopravvivono come mercenari. Capo, questa è pura follia. E vedrai dopo. Così mi piace. Ti sono mancato? Tu mi sei mancato tanto? Se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, non vorrei essere al tuo posto. Vedo che sei diventato un pessimo elemento. Forse potrete ingaggiare. Ah, ragazzi, adoro i piani ben riusciti. Il famoso A-Team. Ora che diavolo c'è? Se guardassi fuori dall'aereo, sulla tua destra, noteresti che abbiamo un'ala in fiamme. Merda! Svegli ho qualificato? Per contributo in pazza. Per contributo in pazza.